Il Vangelo di Matteo Il termine originale non indica uno che ha la pancia piena o se la passa bene, ma è una persona che è in una condizione di grazia, che progredisce nella grazia di Dio e che progredisce sulla strada di Dio. La pazienza, la povertà, il servizio degli altri, la consolazione, che progredisce su quella. Questi sono felici, questi saranno beati. E sarebbe bello imparare memoria per ripetere, per avere proprio nella mente e nel cuore questa legge che Gesù ci dà. Grazie.